Allora ragazzi, quel ghiotto non ho idea di quando stiate vedendo questo video, io lo sto registrando lunedì sera appunto verso le 18, comunque voglio parlare con un po' di ritardo del gol non convalidato a Ronaldo in Serbia-Portogallo, ma mi voglio soffermare in particolare sulle dichiarazioni un po' fuori dal coro e oserei dire finalmente di un opinionista ieri alla domenica sportiva. Sto parlando di Eraldo Peci, se non sapete chi è comunque cercate tranquillamente su Google, gli voglio fare i complimenti e voglio finalmente sottolineare una cosa positiva, perché io vedo che purtroppo i miei pseudo colleghi vanno sempre a sottolineare le cose negative della tv o di qualsiasi cosa per fare polemica, per fare a volte facile retorica, Perché fare un video in cui dire, si è scandaloso che sia stato annullato, cioè non è stato convalidato un gol del genere, non c'è bisogno che faccia il video, è scontato che sia scandaloso, no? Fai un video 30 secondi, c'è scandaloso che non hanno convalidato il gol, il video è finito, non c'è da argomentare tanto, è normale che nel 2021 la tecnologia ci deve essere purtroppo, perché ormai siamo abituati così. Cioè se voi pensate a com'era arbitrare prima, praticamente ogni partita c'era un errore, un errore anche gravissimo, un rigore non dato, un fuorigioco, perché arbitrare senza la tecnologia ragazzi è difficilissimo, infatti io mai andavo a criticare gli arbitri tre anni fa, perché senza la tecnologia è difficilissimo vedere, quasi impossibile vedere una palla dentro di un centimetro o magari fuori di un centimetro. Ora con l'ausilio della tecnologia è molto più facile e certi errori non sono appunto ammissibili. Ma cosa ha detto Eraldo Pecci? Perché sappiamo che tutti, diciamo, hanno appoggiato Ronaldo perché hanno detto io mi sarei arrabbiato anch'io, eccetera, mentre Pecci, nonostante in tv sappiamo che spesso tante dichiarazioni sono di facciata, dicono sempre un po' le stesse cose, e difficilmente c'è un po' una voce fuori dal coro che magari va a criticare, ad esempio in questo caso Ronaldo, perché Ronaldo è intoccabile, guai, guai, vabbè, comunque. Ieri alla domenica sportiva si è parlato, dopo la partita dell'Italia, sono tornati all'evento appunto, diciamo, scandaloso di Serbia-Portogallo, hanno chiesto un po' l'opinione di tutti, Fulvio Collovati, eccetera, Eraldo Pecci ha detto che innanzitutto ha detto che quando era al Real Madrid sbagliavano spesso a favore loro, a favore di Ronaldo, e questo lo sappiamo tutti, perché poi il Real ha un potere politico in Europa grandissimo. E poi ha detto che comunque non è il caso di ingigantire un errore solo perché è successo a Ronaldo, perché anche a De Ligt è successo, mi pare, ma non se n'è parlato, zero, zero. Invece è Ronaldo e se n'è parlato, va bene, ci sta Ronaldo, ok. E poi si è soffermato sul gesto della fascia. Perché l'avesse fatto un altro, l'avesse fatto uno della nazionale italiana, saremo qua, non dico a crocifiggerlo, però, ragazzi, gettare la fascia del proprio paese, e no, proprio mai, in quel modo, non è come dire, cazzo, non ho segnato, vaffanculo. Non lo so, e poi sbaglierò io, però, giustamente, Raldo Pecci ha sottolineato questo fatto, gettare la fascia non si fa, anche perché poi lì è un errore umano dell'arbitro, e ripeto, torniamo lì, arbitrare con i fotogrammi, noi da casa, vedere quel pallone è dentro o fuori, siamo capaci tutti. Senza la tecnologia, ragazzi, non è il caso di ingingattire un errore solo poi per fare un video, per fare facile retorica, ripeto, perché è normale che sia scandaloso che nel 2021 manca la tecnologia e non è ammissibile in una qualificazione ai mondiali. Ma non è, secondo me, il caso di ingingattire un errore solo perché è successo a Ronaldo, mi soffermerei più su quel gesto di Ronaldo che, secondo me, sbagliare umano, eh, sbagliare umano, io quello lo dico sempre, però non è ammissibile gettare la fascia così della tua nazionale, ok? Poi dopo si è scusato, va bene, quello gli va riconosciuto, però l'avesse fatto un giocatore della nazionale italiana, penso che non ci sarebbe, o magari un giocatore della Lazio, no, ad esempio. Quindi, complimenti a Eraldo Pecci e mi piace finalmente sottolineare anche un po' le cose positive, perché sempre fare polemica, polemica, su tutto, invece no, io d'ora in poi, no, invece di andare a criticare per dire la telecrona carai, che tanto ragazzi, ma l'avete detto in mille salse, in mille salse che non vi piace la telecronaca carai, lo sappiamo tutti che non è una telecronaca che, ieri io mi stavo addormentando, dico la verità, nel secondo tempo, però è sparare sulla croce rossa, perché io, se, io potrei farlo ogni settimana il video sulla telecronaca della rai scandalosa, e farò sempre, come dire, prenderò sempre facili consensi, ok? Ehi, andateci voi a fare la telecronaca, io non critico, sapete perché? Perché non ho le competenze per criticare la telecronaca rai, non l'ho mai detto, che fa schifo, no, non sarà entusiasmante? Ci saranno telecronisti migliori? Verissimo, verissimo, poi di Gennaro come commento tecnico mi piace anche, molto meglio di altri, non sono esaltati come altri, però io non sono telecronista, non ho le competenze, sono convinto che molti che criticano non sanno neanche spiccicare una frase in italiano corretto, sono sicurissimo, guarda, quindi io dove non ho competenza non metto becco, è come sugli arbitri, infatti io sugli arbitri preferisco non parlarne, ma perché? Perché io voglio parlare di calcio, è inutile fare il video, il gol non dato a Ronaldo, voglio parlare di calcio, è perché non mi compete, io non ho mai arbitrato, non so cosa significa arbitrare, posso dire facile, posso dire difficile, ma non lo so, ok? So che è difficilissimo, molto più che fare il calciatore, secondo me, fare l'arbitro, perché poi sei da solo contro tutti, diciamo, e poi una piccola incertezza, un centimetro in più, un centimetro in meno, decide una partita. Con la tecnologia, beh, ragazzi, è nettamente più facile arbitrare, ok? Però io sono stufo di vedere sempre questi video con la telecrona carale, perché lì è solo fare il video per prendere facili consensi, perché tutti la pensano così, vado dietro alla massa, so che prendo consensi, Invece, io apprezzo, per esempio, adesso in questo caso Eraldo Pecci, una voce fuori dal coro, che non è andato a sottolineare come tutti ha, non hanno dato il gol a Ronaldo, ma lì non è che c'è un complotto dietro, è un errore umano. Quanti gol non hanno dato così, ragazzi? Ripeto, vedere il centimetro è difficilissimo, ma è andato a sottolineare il gesto, bravo, bravo. E, comunque, attaccare, tra virgolette, Ronaldo non è da tutti, ok? L'ha fatto uno youtuber da tre anni, lo sta facendo uno youtuber da tre anni, ma quella è un'altra storia. Signore, spero vi piace questo video, vi dico che, purtroppo, lavorando e tutto, ho pochissimo tempo per fare, editare video, quindi questo video non sarà editato, vecchio stile, ve lo butto subito, però il vostro supporto, io se vedo supporto, ho sempre voglia di portare contenuti, quindi mi raccomando, like al video, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, è importantissimo, bella.